Seconda edizione per ASL in vita e ora di prevenzione la campagna itinerante dell'azienda sanitaria locale di Salerno che attraverserà l'intera provincia per invitare i cittadini a sottoporsi ad una serie di visite di controllo completamente gratuite. In primo piano lo screening oncologico seguito dalla sensibilizzazione verso le vaccinazioni e di corretti stili di vita. Prima tappa in piazza Mazzini a Salerno prima di proseguire negli altri centri da Cava Nocera da Maiori a Bellizzi, da Agropoli a Padula per poi chiudere il prossimo 5 gennaio nuovamente nel capoluogo. A girare un track attrezzato con un ambulatorio all'interno per la diagnosi precoce dei tumori sia femminili che maschili. Il tour sarà anche pubblicizzato in tempo reale sulla pagina facebook dell'azienda. È la seconda esperienza prenatalizia ed è diciamo noi crediamo molto perché abbiamo analizzato i risultati della vecchia diciamo dell'esperienza precedente anche l'ultima quella fatta in estate sulle spiagge per le spiagge sicure abbiamo riscontrato un diciamo un buon abbiamo avuto un buon riscontro con la popolazione sia residente e sia diciamo queste sono cose che sembrano come dire un po' auto celebrative ma nel nostro ultimo percorso abbiamo individuato alcune persone che avrebbero forse disatteso il loro tumore e abbiamo salvato persone che probabilmente potevano morire 20 metri più avanti insomma in qualche modo relativamente all'esperienza diciamo all'avvio delle attività che partono oggi qui da Salerno e che abbracceranno tutta la nostra provincia pensiamo di riuscire ad intercettare realmente non ciò che i cittadini e le cittadine del nostro della nostra provincia vedono sanno di avere ma tutto ciò che loro non sanno di avere grazie 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 grazie